Mirano. Una turista francese di 67 anni è morta venerdì sera dopo essere stata investita in pieno da un 46enne residente nel paese veneziano che si trovava in auto con la famiglia e si era messo al volante per tornare a casa. La donna transalpina, residente a Bordeaux, stava trascorrendo una settimana di vacanze assieme al marito e avevano appena finito di cenare alla pizzeria C'era una volta. I due pensionati alle 21 si sono incamminati verso l'hotel dove alloggiavano dall'altra parte della strada. Il marito al momento del sopraggiungere della macchina che percorreva la strada in direzione di spinea era riuscito a superare la corsia di marcia. La coniugia invece è stata travolta in pieno e sbalzata a terra dopo l'impatto, inutili soccorsi.